Grazie a tutti. L'ospite in studio è Nicola Danti, consigliere regionale per il Partito Democratico, ma soprattutto in questo momento candidato alle elezioni europee per il PD nella circoscrizione centro. Buonasera e benvenuto. Innanzitutto, qual è il suo impegno attuale? Perché le elezioni europee sono ormai alle porte, manca pochissimo tempo e immagino che sia, avendo una circoscrizione molto ampia, un grosso impegno. È un impegno molto faticoso perché noi abbiamo una circoscrizione che comprende quattro regioni, sono 12 milioni di abitanti e è un territorio molto vasto che va dal nord della Toscana, dalla Lunigiana fino al confine con la provincia di Caserta, dal mare Adriatico al Martirreno. Però è un'Italia molto bella, questa Italia di mezzo che è un po' stata trascurata anche nelle priorità politiche, a parte la capitale che ha una sua ruola, una sua importanza, però c'è un'Italia di mezzo e questa provincia italiana che ha bisogno di maggiore rappresentanza anche nelle istituzioni europee. Ha alcuni tratti comuni molto significativi, una piccola industria molto sviluppata, un'agricoltura di grande qualità e anche bellezze naturali e bellezze culturali straordinarie, un patrimonio culturale meraviglioso, quello della Toscana ma anche quello dell'Umbra e delle Marche. Quali sono le istanze che sta portando tra la popolazione e tra la gente nel suo turno di campagna? Intanto noi dobbiamo pensare che l'Europa di questi anni ha tradito le nostre aspettative, ha tradito le aspettative di chi per 60 anni ha costruito un'Europa che sognava, un'Europa nella quale i cittadini fossero protagonisti, nella quale vi fosse una prospettiva di sviluppo e lo è stato per molto tempo. Negli ultimi dieci anni abbiamo appaltato l'Europa alle banche, le abbiamo appaltate ai grossi poteri finanziari, abbiamo messo al centro tutta la moneta. Io penso che questa è la volta nel quale noi dobbiamo cambiare le priorità dell'Europa. Per cambiare le priorità dell'Europa serve un governo di centro-sinistra che in Europa sia in grado di mettere al centro il lavoro, lo sviluppo e di nuovo delle politiche sociali per i cittadini. Se il Partito Democratico avrà un grande successo, noi siamo nelle condizioni oggi per poter dire che anche l'Europa può tornare a svolgere quella funzione che ha svolto per 60 anni, cioè quella di essere un motore di sviluppo, di libertà, di democrazia, di opportunità per i cittadini. Ecco, quanto le persone che lei incontra, il cittadino, l'elettore, sa realmente di Europa o va solo per sentito dire? Purtroppo noi siamo stati sempre i paesi più europeisti di tutti, siamo stati quelli che quando si facevano i sondaggi in Europa, quelli che dicevano che erano più europeisti erano gli italiani. Però noi siamo sempre stati molto distratti e in questo i cittadini si sono accorti dopo di che cosa voleva dire magari provvedimenti europei, che il governo nazionale non ha saputo trattare le sedi comunitari, i parlamentari nazionali non hanno saputo trattare all'interno del Parlamento europeo. C'è oggi una visione dell'Europa purtroppo negativa perché noi in questi anni siamo stati un po' distratti. I cittadini ne sanno meno rispetto a altre istituzioni, ma si accorgono che ogni giorno l'Europa prende delle decisioni che hanno effetto sulla loro vita, che poi vengono tradotte in normative nazionali, in normative regionali, in provvedimenti. Ma noi purtroppo non siamo stati in grado di orientare a favore nostro le normative dell'Europa e allora ai cittadini dobbiamo mandare questo messaggio e farli ritornare a credere in un'Europa che si occupa di loro. Ne sanno un po' poco, però alla fine quando si arriva nei provvedimenti concreti tutti i giorni vediamo che l'Europa ha un'influenza molto significativa. Questo vale per il patto di stabilità, per esempio per i nostri comuni che hanno difficoltà a spendere le risorse. Quando noi diciamo che questa scuola non si può fare anche se abbiamo le risorse perché non abbiamo i vincoli del patto di stabilità, i cittadini si accorgono che l'Europa conta. Magari non ne hanno un'opinione troppo positiva perché l'Europa non si è occupata di loro in questi anni. Noi vogliamo far ritornare al centro delle politiche europee i cittadini di tutto il continente. C'è un'altra sfida alle porte che è quella del semestre europeo a guida italiana, un semestre da cui ci si aspetta tanto. Il Partito Democratico con il Presidente del Consiglio Renzi ha indicato degli obiettivi ben precisi, per cui queste elezioni europee contano tanto anche proprio per questo. Più sono i supporti a livello europeo e più magari si riuscirà a portare a termine gli obiettivi prefissati. Le politiche che il Governo ha portato avanti nei primi mesi sono state politiche straordinarie di forte innovazione e di forte cambiamento del nostro Paese. E hanno bisogno queste politiche e il Governo ha bisogno di trovare una sponda europea per portare a termine un grandissimo processo di cambiamento che è stato avviato. Quindi credo che sarà determinante il voto per il Partito Democratico in queste elezioni e sarà determinante il poter contare all'interno del Parlamento europeo su una pattuglia di parlamentari molto consistente. Perché l'Italia per la prima volta può essere determinante all'interno del Parlamento nella scelta del nuovo Presidente della Commissione e quindi nel cambiamento politico delle priorità della politica europea. Io penso che questa è la sfida che abbiamo davanti e i provvedimenti che il Governo prenderà e sta prendendo sono provvedimenti che troveranno in Europa una sponda se il Partito Democratico riuscirà ad avere un grande consenso e essere determinante per l'elezione di Schulz. Ma io penso che oggi la sfida per questi europei sarà tra chi crede che l'Europa possa essere davvero una prospettiva, un sogno, una frontiera sulla quale proiettare i nostri giovani, i nostri ragazzi, quelli che l'Europa non l'hanno vissuta come processo costitutivo. I nostri giovani sono ragazzi che hanno vissuto già con l'euro in tasca, che non hanno mai avuto la carta d'entità con il timbrino documento valido per l'espatrio, che sono abituati ad andare all'estero senza fare nessuna frontiera. Hanno già i benefici dell'Europa senza averla costruita in questi anni. Noi dobbiamo riprendere un programma che fa sentire a questi cittadini le istituzioni europee più vicine e questo lo possiamo fare avendo un'Italia che cambia, perché senza un cambiamento radicale del nostro paese noi non avremo più la dignità di andare in Europa e di poter dettare noi la linea. Io invece credo che oggi abbiamo le condizioni con il Presidente del Consiglio, con questo governo, con la prossima Presidenza dell'Unione Europea di andare in Europa e di lì riprenderci il nostro posto. Il posto dell'Italia è il posto tra i grandi paesi dell'Europa, il posto dell'Italia è il posto di chi ha spinto sempre verso l'unione politica dell'Europa e credo che questo dovrà essere in futuro anche il nostro ruolo. Ecco, ha parlato appunto di anche anti-europeismo, c'è poi l'incognita del Movimento 5 Stelle, insomma elezioni europee che si posizionano in un clima molto particolare, come è quello italiano di questo momento. Beh, noi stiamo vivendo un clima molto difficile nel nostro paese, abbiamo un movimento che scommette sul fallimento dell'Italia. Ormai li conosciamo questi del Movimento 5 Stelle, non è che non li abbiamo visti che cosa fanno, non sono più una novità. Sono un anno in Parlamento e in un anno loro non hanno mai votato nessun provvedimento, nemmeno quelli che loro stessi dicevano che erano pezzi del loro programma. Penso all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, penso all'abolizione del Senato, all'abolizione delle province, alla riduzione dei costi della politica, agli 80 euro in busta paga, alle riforme economiche e sociali messe in campo. Loro sono sempre contro a tutto, perché vedete, loro più l'Italia va male e più loro acquistano consenso. E loro scommettono sul fallimento dell'Italia, sono come quei giocatori di borsa, quelli che si chiamano ribassisti, quelli che scommettono non su un titolo che va bene, ma su un titolo che va male. E il titolo su cui scommettono che vada male è l'Italia, lo stanno facendo a Roma, lo faranno anche a Bruxelles, giocheranno contro il nostro paese per acquistare consenso loro, ma non per cambiare e per migliorare le condizioni dei cittadini. Qual è l'argomento su cui gli elettori le chiedono più informazioni e su cui vorrebbero un impegno più preciso in Europa? Ci sono tante cose che chiedono i cittadini in questo momento. Chiedono più attenzione sicuramente alle politiche sul lavoro. Oggi la disoccupazione giovanile è al 44% nel nostro paese, è una piaga in tutti i paesi d'Europa. Noi dobbiamo avviare un processo che rimetta al centro delle politiche europee lo sviluppo e il lavoro, soprattutto per i giovani. Questo è quello che i cittadini chiedono in primo luogo. Poi ci sono tante aziende, soprattutto nella nostra Italia centrale, nella nostra regione, nella nostra terra, che ci chiedono di essere tutelati maggiormente dall'Europa. Noi abbiamo un grande marchio, il grande marchio si chiama Made in Italy, che vuol dire tutte le filiere agroalimentari, tutti i prodotti tipici, ma vuol dire anche l'artigianato artistico, vuol dire anche le piccole e medie imprese innovative che abbiamo. Ecco, queste persone, questi imprenditori, questi lavoratori chiedono all'Europa non meno vincoli, ma più tutela nel mercato internazionale. Questi sono, credo, elementi su cui noi possiamo fare una grande ripartenza e avere un'Italia più competitiva e con maggiore opportunità per i giovani. E secondo lei invece qual è la sfida più grande che vi attende nei prossimi mesi in Europa? La sfida più grande è riprendere un grande sogno europeista, che oggi purtroppo è venuto meno, anche a causa dell'Europa, anche a causa del fatto di aver appaltato la politica ai burocrati di Bruxelles e non averla presa. Noi dobbiamo riprendere questo straordinario disegno, questo disegno di un'Europa che è l'Europa dei popoli, che è un'Europa che si fa carico degli immigrati che arrivano a Lampedusa e che sono un problema non per l'Italia, ma sono un problema che dobbiamo affrontare insieme attraverso, primo, tutelando la vita delle persone che scappano dalla fame e quindi facendo tutto quello che serve per garantire l'incolumità e la vita a queste persone e la dignità di queste persone, ma anche facendo politiche di sviluppo, politiche di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine di queste persone, avendo una politica estera internazionale, riprendere questo sogno dell'Europa. Noi non possiamo limitarci a dire che l'Europa è semplicemente una banconota o le banche centrali che la governano, l'Europa è l'Europa dei popoli, dei cittadini, è stato il sogno al quale hanno lavorato tantissimi italiani, a partire dal Tiero Spinelli che è stato uno dei pari dell'europeismo del nostro paese e che durante la guerra immaginava gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, io penso che questo disegno si può fare, si può fare ripartendo dai giovani, ripartendo dalle scuole, ripartendo dal finanziamento consistente del progetto Erasmus, ripartendo dal servizio civile europeo, l'opportunità per i cittadini dell'Europa di svolgere sei mesi di servizio civile non solo alla pubblica assistenza, alla misericordia del nostro territorio, ma di farlo in qualche paese europeo. Importanti per le elezioni europee sono le preferenze, che nelle nostre abitudini non sono proprio al primo posto per quanto riguarda le elezioni, invece sono fondamentali per le votazioni per l'Unione Europea perché permettono di mandare più rappresentanti delle regioni di appartenenza e delle circoscrizioni di appartenenza proprio in Europa, rappresentarli. Le preferenze sono una grande opportunità per i cittadini per scegliere i loro rappresentanti. Questa opportunità è colta magari nel nostro circoscrizione da aree territoriali che sono più abituate a esprimere preferenze. Penso nel Lazio, penso soprattutto nella città di Roma, dove molte migliaia di cittadini esprimono preferenze più rispetto a noi. Hanno un tasso di espressione preferenze intorno al 90%, noi siamo come Toscana intorno al 30%. Questo porta che troppo spesso abbiamo candidati che sono territorialmente più vicini, residenti in altre regioni. Penso che noi possiamo oggi, abbiamo un dovere, nel momento in cui richiediamo e chiediamo anche alla politica di fare uno sforzo, di rimettere le preferenze. Penso alla legge regionale toscana che cambieremo nelle prossime settimane. Penso anche alle battaglie che sono state fatte per avere le preferenze a livello nazionale. Credo che dobbiamo oggi dimostrare, noi dalla Toscana, dove abbiamo un grande consenso per il Partito Democratico, di portare un grande consenso al Partito Democratico e quindi a far vincere le nostre politiche, il nostro partito, ma anche a portare candidati che possono in Toscana rappresentare la Toscana all'interno del Parlamento europeo. Chiudiamo con qualcosa sulla politica nazionale, perché qual è la più grande sfida che attende il governo e il Partito Democratico, secondo lei, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in questa legislatura? Le sfide sono moltissime, c'è sicuramente la sfida delle riforme istituzionali, la sfida del mercato del lavoro, di tutte le politiche sociali, ma c'è una grande sfida che noi dobbiamo combattere, che è quella contro la burocrazia. O noi semplifichiamo il nostro Stato, o noi troviamo un modo di avere uno Stato molto più leggero, molto più efficiente, o se no noi rischiamo di essere uno Stato che va fuori competizione, di essere un Paese che non è più competitivo. Girando in questa campagna elettorale si conoscono tante aziende, eppure abbiamo un'Italia straordinaria, che nonostante questo periodo riesce a conquistare pezzi di mercato, che riesce a conquistare nuove opportunità di impresa e di lavoro per le nostre imprese, per i nostri cittadini, e poi però si trova davanti a uno Stato che non è amico, anzi è spesso nemico. Io penso che noi dobbiamo invece lavorare, fare una grande battaglia per avere un apparato dello Stato, un apparato pubblico più efficace, più efficiente, a partire dalla giustizia. Non è pensabile che un cittadino per avere giustizia, non solo quella penale, anzi quella penale meno, quella civile, per avere una giustizia civile, per riscuotere un credito, per avere una sentenza, ci vogliono anni, anni e anni. Non è pensabile. Noi dobbiamo fare delle riforme che servono a rendere più semplice, più efficace il nostro Stato. Io la ringrazio per essere stato qui con noi quest'oggi. Nicola Danti, candidato per il Partito Democratico alle elezioni europee, per la circoscrizione Italia Centrale. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo al prossimo One to One. Noi ci vediamo al prossimo One to One.